La Roma, l'Inter, è tutto pronto e prontissimi siamo anche noi. Luca Marcheggiani e Fabio Caressa per questa teletronica. E dunque, calcio ed inizio. Gli salta come Birilli, continua ad andare, palla a piede, buono il cross agliato, allontana il pericolo, c'è il tiro al volo, il pallone è dentro, è arrivato subito il gol. Andanovic non l'ha vista partire, probabilmente la difesa gli ha ostruito la visuale, guardate come la palla si infila nel barco aperto dei difensori. Andanovic non l'ha vista. L'Inter comincia malissimo la gara. Icardi. Guarin. Shaqiri. Turosidis. Palasio. Palasio. C'è l'opportunità per il contropiede. Ottima giocata. Può andare al tiro. Attenzione. Abbiamo trovato il gol. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Si riparte, di nuovo in parità. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. la prova. Shaqiri. Icardi. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Nangolan. Giuseppe Olevas. Cerca la profondità. Allontana il pericolo. Tocco preciso. Prova il filtrante. Occhio al tiro. Supera la linea. Gol. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. Sono in vantaggio di un gol. Shaqiri. Guarin. Nagatomo. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Cerca spazio. Nangolan. È un'occasione. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Ha recuperato un'ottima palla. Certo la difesa avversaria gli ha dato una grande mano. Ma il suo è stato comunque un grande anticipo. Qui cercherà il tiro. Nulla da fare per il portiere. Un gol bellissimo. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Due gol di vantaggio sono tanti. Ma attenzione, nel calcio può succedere di tutto. Astori. Buon cambio di gioco. Prova la soluzione in profondità. E il difensore respinge. Nangolan. Si fa vedere. Fuori di pochissimo. Icardi. Shagiri. C'è spazio. Occhio. Buon recupero. Anche se questo non è il suo ruolo. Nel calcio di oggi ormai... Azione fallosa. Nessun dubbio. Arbitro che si avvicina al giocatore. Con il calcio di punizione arriva ovviamente anche il cartellino giallo. Palla in profondità. Occhio al lancio lungo. Sulla fascia. È libero. Non c'è fuori gioco. Si va. C'è spazio per cacciare. E hanno segnato ancora. Vantaggio di tre reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. E non poteva mancare un'occasione del genere. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Si riparte con una differenza di tre gol. Non poco. Porta il pallone in avanti. Il portiere si fa trovare pronto. Sì, valeva la pena provarci. Anche se segnare da lì non è semplice. Primo tempo che finisce qui. Primo tempo che finisce qui.